Ciao, sono la dottoressa Katia Lalli. Oggi voglio parlarti dell'uva ursina. L'uva ursina è una pianta, è un arbusto di grande dimensione, quindi nulla a che vedere con il grappolo d'uva, anche se si chiama proprio uva ursina, ma è un arbusto con delle bacche piccolissime rosse. Da questa pianta si ricava un ottimo rimedio naturale, appunto l'uva ursina, che ha numerosi benefici, soprattutto per le vie urinarie. Infatti può essere utilizzata per cistiti croniche, cistiti acute, difficoltà e frequenza della minzione, oppure sensazione di non svuotare pienamente ed efficacemente la vescica. Perché ha queste funzioni? Perché all'interno ha diverse sostanze con diverse proprietà. Prima di tutto, proprietà antibatteriche, agiscono addirittura le sostanze all'interno dell'uva ursina contro gli stafilococchi e le scherichia coli, che sono i principali responsabili delle cistite, i due batteri responsabili delle cistite. Ha un'azione antinfiammatoria e calmante, soprattutto quando si ha un'infiammazione del tratto urogenitale, abbiamo proprio bruciore nel momento in cui si va ad urinare. Serve a regolare l'acidità e l'alcalinità delle urine, mantenendo un ambiente ottimale per evitare poi il proliferarsi e lo svilupparsi delle infezioni batteriche. Quindi può essere utilizzato anche di accompagnamento, quindi eventualmente se stai facendo già una terapia delle vie urinarie, serve a potenziare il trattamento che stai effettuando. Come lo trovi e come lo puoi utilizzare? Lo puoi utilizzare sia sotto forma di decotto, infuso, ma soprattutto come tintura madre. Quindi un'elevata concentrazione del tuo rimedio. Comunque per qualsiasi tipo di domanda puoi scrivermi e se pensi che questo video possa interessare ad una tua amica, condividilo. Ciao! Grazie! Grazie! Grazie!